Buon pomeriggio a tutti, adesso sono le 13.41, vi parlo dall'Olanda, la notizia da adesso c'era, c'era stamattina però adesso ufficiale, il governo Rutte è caduto, non c'è più, lui ha provato a ricapitolare, a fare cose ma non ci è riuscito, quello che vogliono fare al momento, quattro partite assieme, cercare di recuperare tutti i problemi che ci sono del virus, del corona, però Rutte è caduto, un globalista anche lui come viviamo in Italia, è caduto per un affare che adesso non ho ancora capito bene, comunque è caduto per una cosa che è successa, che non è stata giudicata corretta, è caduto, questa è la mia notizia per il momento, so che in Italia oggi alle 15, alle 6 dovrebbero aprire più di 50.000 ristoranti, ragazzi non lo so, il governo in Italia non cadrà perché Mattarella lo appoggia in tutti i sensi, quindi in Italia c'è bomba, però cosa ha fatto? Magari si esclude lui stesso, magari piange per ritornare nella coalizione cosiddetta di maggioranza, ma in effetti minoranza, però governano, qua in Olanda c'è stato un esempio di boom, finito, caduto, non c'è stato tanto casino, tempo fa, in Italia c'è un bombarolo che la spara da tre mesi, da quattro mesi, domani, 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 vabbè, l'altro giorno è successo, qui non si è fatto tanto casino, è caduto, io non dico che sono contento, anzi, forse è un po' sì, perché a me la parte globalista non mi piace, io dico che la corruzione in Olanda ce n'è tanto meno che in Italia, rispetto, ripeto, però c'è, la corruzione esiste in tutto il mondo, perché io non mi vendo per magari 6.000 euro, però se mi parli di 800.000 euro, allora dico ma ci penso, ma quello che voglio dire è una cosa normale di tutti gli umani, è certo così, io cerco di darvi questa notizia oggi a quelli che mi appoggiano a quelli che sono iscritti al mio canale, comunque magari sarò il primo a dare in Italia, il governo Rutte è caduto, stasera più tardi ci sarà una conferenza stampa del ministro, ex ministro Rutte, sentiremo cosa dice, poi vi farò rapporto, buona giornata a tutti, coraggio ragazzi, forse si può arrivare anche in Italia a certe cose, ciao!